I miei allievi del nord Italia vengono anche dalla Slovenia, sono amici tutti, anche i nostri allievi del maestro Miura e i miei, anche perché al nord Italia sono nella Lombardia. Il maestro Miura mi ha creato da ragazzino, mi ha educato soprattutto non solo come karateka ma come uomo, perché fondamentalmente karate do vuol dire anche educazione, non solo karate, perché karate è la prima parte, quella che attrae, quello più importante è la parte educativa del karate, la disciplina e il rispetto dell'anziano, del maestro, del giovane, il giovane apprende, l'anziano insegna, ma l'anziano deve dare l'esempio in tutto, del comportamento nella vita ma anche come, non solo in palestra, anche fuori. Voglio anche ringraziare l'associazione Valdassare Castiglioni, la persona di Gianni Rottichieri che mi ha finalmente aiutato ad emergere, perché io sono anni che faccio queste cose per il mondo e anche qui a Mantua, purtroppo l'interesse della gente era molto scarso, grazie alla partecipazione di questa associazione Valdassare Castiglioni ha cominciato a propormi e è successo quello che è successo. Quello che è seminato anni e anni fa, adesso sta fiorendo, perciò è il mio orgoglio anche da parte mia. Anche anni e anni di sacrificio noi facciamo proprio, non esce come se fosse una pianta di radice, radice non si vede da fuori, ma se radice è più profonda anche nasce fiori più belli, più tanti, è come così, credo. Siamo all'eccellenza nella specialità, l'occasione era ghiotta, avere insieme a Mantua il maestro Miura e il maestro Svardi che si esibivano sul territorio, credo fosse un'occasione da sfruttare. Dire maestro Miura vuol dire karate, è un insegno mondiale del karate, il maestro Paolo Svardi è il discepolo designato del maestro Miura, al di là dei titoli ormai noti a tutti conseguiti dal nostro concittadino. E quindi l'associazione Vallassare Castiglione ha ritenuto che fosse arrivato il momento di organizzare qualcosa con i due maestri insieme a Mantua. Credo di poter dire che sarà un test questo che ci porterà a organizzare una manifestazione di spessore internazionale entro i prossimi 12 mesi, sempre qui a Mantua.